Ciao a tutti! Eccoci qua! Allora, aggiunta di offerta di Natale. Ci siamo? Bene, rido perché è tutta una mia idea, è tutta una mia creazione. Beh, allora, in realtà questa volta un piccolo complimento lo devo fare. Ma no, su alcune cose hai inciso, ma su proprio dei dettagli marginali. Va bene, facciamo la corta perché devo farlo. Io ho deciso, io faccio. Allora, abbiamo creato la nostra maglia e l'abbiamo chiamata la Betta di Birba. Ma cosa mi dici Mario? Sì, questa maglia qua è in viscosa riciclata, con il collo alto ma non altissimo, è una ciambella che non stressa, che è morbido. Ma perché, allora, adesso abbiamo optato per la viscosa riciclata calda perché le lane non tutti le sopportano. E poi anche perché volevamo avere un prezzo bomba e con le lane, cioè chiaramente non si riesce. Però, oltre a questo, è proprio perché tanta gente è allergica alle lane. Quindi abbiamo pensato di farla, di crearla in viscosa calda, riciclata, puramente riciclata. Quindi abbiamo creato la nostra maglia che si chiama la Betta di Birba. È uscita proprio oggi e siamo riusciti ad averla oggi, che già questo è un gran miracolo. E stavamo pensando, a che presto la mettiamo la Betta? Ah, io dicevo 2,90, 300. Allora, è in offerta di Natale, quindi questo è il prezzo. Ne abbiamo in due taglie, SM e ML. Questa è la vestibilità, quindi questa è la S, è una bella vestibilità. Non sono piccole, ma non sono neanche delle maglie over. Si possono chiaramente infilare dentro, come avevo insegnato, ma quest'anno sono belle anche portate fuori. No, no, sono belle, sono piacevoli. Hanno, sono tutte a righe, adesso lo faccio vedere, un momento. Hai già svelato. Va bene, dopo lo risvelo. Allora, sono tutte con le righe, ma in tanti colori, che adesso poi vado veloce e ve le faccio vedere, perché è giusto che ve le faccio vedere. Questa è bianca e nera, con il bordino finale in violetta. E il suo prezzo abbiamo deciso che è in offerta, a questo prezzo qua, a 49 euro per tutto il mese di Natale. Scorte, fino all'esaurimento scorti. Insomma, un po' ne abbiamo, sono arrivate oggi. Anche perché i sciarponi della Lugio, intanto, ci sono ancora. Gli sfumati a 39 euro e il fularone sempre a 39 euro. Abbiamo dato una piccola aggiunta, ma l'anticipazione verrà da domani. Un'aggiunta su un altro sciarpone, perché quelle rosa stanno correndo e stanno andando forte. Non spoilerare troppo. No, domani facciamo anche quello per l'aggiunta del fularone. E ne sta per arrivare un altro. E intanto vi faccio vedere, vado a cambiare perché vi voglio... Perché altro ci sono delle novità anche sulle date di apertura, allora. Sì, però le diciamo sempre domani, direi. Va bene. Allora, vado a cambiare perché volevo fargli vedere i colori. Quindi, e quando me li provo non dico niente. Fai così che fai la magia. Aspetta un attimo che metto via il cartellino e via. Eccola, toni, nuance di beige con questo cammello e il bordino finale nell'arancio. Sempre collo alto, sempre un po' così. Bellissimo che ti attacca al make-up, è bellissimo. Il mio make-up, sì, perché oggi l'ho fatto un po' sull'arancio. Il cartello del prezzo. No, no, è qui. Guarda, è sotto qui. Ok. Ok, ferma che vado. Verde bosco, verde bosco con il verde pistacchio e il bordino finale rosso. Direi che ci siamo, vero? Anche questa... Ma sono finiti i colori? Anche questa 49 euro. Sempre 49 euro, sempre lei e sempre la betta. Sono finiti i colori? No. Ce n'è un altro, dai. Ce n'è ancora, dai. Devi fare uno schiacco di dita. Ciao. Ole. Azzurro. Bello, come il cielo. Carta da zucchero, la ringa sembra nera ma in realtà è blu e il bordino finale è blu wet. Questa è un po' più soffida. Stilosa, è stilosa, più soffida, jeans, è molto molto bella. Anche lei è molto bella. Penso che abbiamo finito. Sono finite? Che palle. Vuoi che ce n'è un'altra? Ma chissà. Non lo so. Rimanete lì, non buttate il telecomando. Secondo me... Le voilà. Ole. L'ultima betta. Bianca e nera e il bordino finale, pistacchio. Bellissimo. Bella. 49. Che luce. Che luce. Allora, queste maglie qua sono nate per l'esigenza di... Allora, perché volevamo anche un articolo facile e anche da regalare. Perché questo, avendo le due taglie, è come regalare uno sciarpone. Oltre al fatto che costa come uno sciarpone. Perché l'abbiamo messa a questo prezzo qui, quindi costa come uno sciarpone. E secondo me fa anche più effetto regalare una maglia, insomma. E poi è una maglia che non stressa, perché se regalate una maglia di lana, magari può pizzicare, può dar fastidio a non a tutti. Invece questa è una maglia da regalare che è fantastica. E allora abbiamo pensato, ecco, di creare questa maglia per voi, ecco. Per come articolo promozionale di Natale. Per dare anche un po' di alternativa ai soliti sciarponi, ai soliti accessori. Ecco, e quindi questa è nata anche proprio funzione regalo. Però se poi una vuole venirsela a comprare di tutti i colori, fa bene. Perché un ogni giorno toglie il medico di torno. E viva la betta creata da Elena. Bravissima. Bravissima. No, ma non è solo merito mio. Dai, le teste sono tante. Venite dentro, mi raccomando, e chiedete scusa, vorrei una betta. Oppure potete anche dire scusa, vorrei tutte le betta. Ok, ci sta, ci sta. Ciao a tutti, ci sentiamo domani per un'altra cosa. Ciao, ciao.